Sono a Carloforte, vi presento Casa Gioconda. Vi presento la casa. Benvenuti. Desidero presentarvi questa casa, ancora non sappiamo a che anno risale, potrebbe essere il 1800-1850. Le cose particolari è che tutto sembra completamente nuovo. Una piccolissima ma grande caratteristica è questo pozzo che troviamo proprio all'interno del vano dell'angolocultura. È un pozzo molto antico dove le persone attingevano proprio l'acqua per lavarse proprio nell'antichità. E tutta questa stanza è già ipermoderna con uno stile tutto suo. Lascerò scoprire a noi i piccoli scritti che ci sono in ogni singola parete di questa casa. Seguito con me andiamo al piano superiore e rimotovatevi al dettaglio di questa scala in lavagna, un materiale veramente raro. Benvenuti al primo piano di questa ad un'ora. Qui siamo nella camera matrimoniale con l'attesso di bagno quadronale, corrispondente totalmente nello stesso bar. Come vedete abbiamo il soffitto completamente in legno e chiama totalmente la natura prima di farvi scoprire il materiale che troveremo poi nel bagno padronale. Scoprite con me. Guardate questo mantegale, è veramente a chietra originale. Ma la bellezza di questo bagno è che direttamente ci dà l'apertura di una delle strade più caratteristiche di Carroforte, dove ai vostri occhi potrete avere una maniera di colori che vi portano in un mondo straordinario. Questa non è una luce artificiale, questa è direttamente una luce naturale che entra all'interno di questo vano ed è un punto luce che collega direttamente la parte più alta della casa con la parte chiaramente del piano terra. Ora mi sto portando al secondo e ultimo piano. Potremmo chiamarla manzarda, ma perché no? Oppure camera matrimoniale compagno padronale. Perché no? Guardate questo podimento interamente in legno, pietra originale e bagno interamente all'interno del nostro vano. Abbiamo quindi tre bagni con un'unica abitazione. Avrei pensato anche a una zona relax, una zona studio. È un'area molto particolare, è forse una delle più importanti della casa perché vi conduce nello spazio esterno esclusivo. Qui siamo proprio nel cielo di Carloforte. Ed è proprio in questa terrazza esclusiva, sui cieli di Carloforte, che potrete sorteggiare un vostro aperitivo o anche una cena in compagnia. Scegliete voi come fare di questo spazio esclusivo. E anche voi come me e come la proprietaria di questa casa amate le cose uniche, particolari, piene di storia. Contattatemi subito, allora lo trovate qui sotto e venite calcoforti. In vacanza, per un soggiorno o per tutta la vita.